Omega Speedmaster Broda Raw, l'arte dell'eleganza e della precisione. Lo Speedmaster Broda Raw è un orologio da polso che incarna l'armonia tra eleganza senza tempo e tecnologia di precisione. Lo Speedmaster Broda Raw rappresenta la fusione perfetta tra estetica raffinata e ingegneria avanzata. Il suo nome, Broda Raw, deriva dalle lancette distintive a freccia che puntano verso le ore e i minuti. Questa caratteristica conferisce all'orologio un aspetto distintivo e unico nel panorama degli orologi da polso. L'orologio Speedmaster Broda Raw trae ispirazione dai modelli vintage degli anni 50 e 60, quando Omega stava perfezionando l'arte di creare orologi di precisione. La scelta di combinare il design classico con le tecnologie moderne rende questo orologio un omaggio al passato e una celebrazione del presente. La cassa in acciaio inossidabile dello Speedmaster Broda Raw, con un diametro imponente, cattura l'attenzione. La lunetta con scala tachimetrica e il quadrante con numeri arabi o indici riflettono l'estetica distintiva di Omega. La seconda scala tachimetrica si può trovare anche sul quadrante. Le lancette a forma di freccia e il cronografo aggiungono dettagli di funzionalità all'aspetto elegante. Il cronografo può essere o su due subquadranti oppure può essere rattrappante. Altre complicazioni. Il datario a finestrella a ore 6 o tra le ore 4 e le 5. Il GMT e la fase lunare all'interno del subquadrante del datario a ore 12. Lo Speedmaster Broda Raw presenta anche sul quadrante il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Il fascino dello Speedmaster Broda Raw non è sfuggito a personalità famose e icone di stile. Molti personaggi di spicco, dalle star del cinema agli sportivi di successo come Michael Schumacher, hanno indossato questo orologio come simbolo di raffinatezza e classe. La sua longevità nel settore degli orologi testimonia l'impegno costante di Omega per la qualità e l'innovazione. In sintesi, lo Speedmaster Broda Raw rappresenta non solo un orologio, ma un investimento nella bellezza e nella precisione. Il suo design unico, ispirato al passato ma proiettato nel futuro, lo rende una scelta ideale per coloro che cercano un orologio che incarni sia il fascino senza tempo che la tecnologia all'avanguardia. Indossare lo Speedmaster Broda Raw significa portare con sé un pezzo di storia e di innovazione, simbolo di stile e affidabilità.